Ciao ragazzi, sono proprio 12 e 12 siamo in un nuovissimo video sui fidget spin Allora, partiamo dal... un attimo che... lì metto tutti bene, non so se si vedono Allora, ok, partiamo dal più veloce al più lento, quindi mettiamo questo, mettiamo questo Mettiamo questo, va a prendere il paginato sorella, poi questo, poi questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo, anzi questo lo mettere qua, vi stoppiamo, vi tagliamo questa parte Fidget spinner sistemati, sono messi così, non so se li vedete, questo, sono messi così Ok, vi stavo dicendo che... vi stavo dicendo, o meglio, avevo ancora il telefonino in pausa Ma vi stavo comunque dicendo, se fermo, vi stavo comunque dicendo che questo è un Fidget spinner speciale Perché, come vedete qua, non so se si vede, ecco, c'ha queste lucine che fanno una specie di scritte, eccetera, eccetera Solo che... vedo, 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 sono le... tipo la I... Invenite questa confusione, è lei, mia cugina Saluta? Antonio Ah, hai rotte le palle, ho avuto Antonio, io mi sto bruciando qua, ok Questo è il più bello, e lo vediamo dopo, spegniamo, se no si scarica Ora io tocco, un attimo E questo è quello, secondo noi, cioè, secondo noi, dura quanto, 4 minuti, durava? No, 5 5 minuti, ed è il più veloce di tutti Adesso voi non lo vedrete, come vi ho detto poco fa Non lo vedete, ma in realtà è più veloce, perché non so perché le telecamere non lo facciano vedere bene, quando è successo nella città, però va bene Poi c'è questo Che ha un non so che, che fa... sentite, guardate, fa un rumore sano, guardate E non so il perché, però, vabbè Pure in tutto, questi figi e spine sono tutti miei Io ne ho pure a casa, ma adesso facciamo vedere, perché non sono a casa mia, se no io vi ho fatto vedere i miei Solo questo c'ho con me, e vi ho fatto vedere questo E niente, questo ha una piccola pecca, ha questo piccolo difetto, però è molto veloce Poi c'è questo arancione, un attimo Allora, questi li faccio vedere io, e questi li faccio vedere qui C'è questo arancione, che è pure molto veloce Questo molto durava, qualche quattro minuti, se non sbaglio Quale? Questo arancione Tre minuti, quanto durava? Due minuti Due minuti Ed è veloce Guardate Visto? È molto veloce Poi abbiamo questo di Batman Che non gira una cazzata Dura anche 20 secondi Poi abbiamo questo Che ci sta quasi per scaricare, però va bene Questo di qua E poi passiamo a Fabiano Perché c'ha altri Gigi Spinner? Allora, incominciamo con questo Chi è con le stelline È tipo americano, ecco E gira velocissimo Ma mai quanto costa di qua, è molto Vabbè, questo dura 5 minuti, questo dura qualche 3-2 minuti Tra l'altro c'è un fastidiosissimo Noi lo vediamo che va veloce Ma in realtà va lentissimo Nel telefono Vabbè, va lento Cioè, è molto, molto fastidioso Perché Ti confondo le idee Abbiamo visto Abbiamo visto questo American Style Adesso noi vediamo un altro Poi c'è questo Che è veloce Sì, però Dura una cagata Ecco Poi abbiamo questo Che è più veloce di tutti Solo perché però Abbiamo perso questo Però va bene Fa gire come potete vedere Abbiamo trovato in modo Di farlo girare È molto veloce È moltissimo veloce Anzi Dobbiamo Anzi Oggi ricordiamoci Che lo dobbiamo recuperare E facciamo vedere la vera velocità Di questo fidget spinner Poi c'è questo blu Che è stato il primo fidget spinner Praticamente l'ultimo fidget spinner è stato questo Comprato su Amazon La bella è stata di 5 euro 10 euro 10 euro Vabbè di 5 ero sbagliato E adesso abbiamo tutti i nostri fidget spinner Tutti qua Lo dovremmo vedere Mi devo comprare ancora Io me le devo comprare di nuovi Perché a me sono così Tutti però va bene Io me le devo comprare al Cite E niente ragazzi Io direi che per oggi è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Su Qualche gameplay Penso che adesso registriremo un video di FIFA E niente Questo erano i nostri fidget spinner Se vi avete piaciuto lasciate un pollicione in su Iscrivetevi Lasciate un commento E bella ragazzi Bella ragazzi Ciao